allora Jack che cosa facciamo? non lo so tu cosa vuoi fare? facciamo sempre così io dico che cosa facciamo tu rispondi che cosa vuoi fare io dico che cosa facciamo che cosa vuoi fare che cosa facciamo facciamo qualcosa Vazowski non hai archiviato le pratiche ieri sera accidenti a queste pratiche sarebbe molto più semplice se volassero via che non succeda mai più sì beh senz'altro cercherò di essere meno distratto ti tengo d'occhio Vazowski tu parli ti credevo una grossa tranquilla selvaggia silenziosa persona cosa perché non me l'hai detto ti confesso che mi incuriosisce molto a sapere qui il mio destino è nelle vostre squisite mani oh d'accordo precisamente tra 18 anni i pianeti si allineeranno senza affanno ah inversi e hai detto che l'ami? ehi piantala è una testimonia oculare di un crimine non c'è altro bla 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 sei attratto non è nemmeno della mia specie sono attratto anch'io e io dovrei farmi dare consigli sull'amore da uno che si rincorre per leccarsi il culo l'ha trovata per conto mio è piccola è disastrata ma è bella sì Rapunzel dunque madre ti dicevo che domani è un giorno molto importante ma non mi chiesto il perché perciò ora ascolta il mio compleanno no no non può essere ricordo la cosa perfettamente il tuo compleanno è stato l'anno scorso abominevole ci credi? io a te sembro abominevole? perché non poteva essere l'adorabile uomo delle nevi o il simpatico uomo delle nevi? Luciano non è abbastanza grande per te? cosa? ma che problema amico? eh? eh? allora? 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 ce l'hai con me? oh 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 adesso si che ho paura allora? ora le parole in balinese dubbiamo ehm dori? ruba e cosa fai? cosa fai? oh penso che ora abbia bisogno di una pausa bambini di oggi troppo desensibilizzati da cinema e televisione questa non me l'aspettavo io sono Vaiana di Mutu Nui questa è la mia barca e tu navigherai fino... hai scommetto che non sai lanciare un gatto sopra la casa e chi mi hai preso eh? guarda qui sbagliato sei tu la principessa Fiona? si infatti in attesa di un cavaliere così valoroso da salvarmi oh che cosa carina ora andiamo oh no è un leoncino quello non è un leone allora che cos'è va a controllare ma quale leone? un uccello con i peli? ma sembra un leone va bene va bene ok non è un leon va bene controllo più da vicino scusami scusami tanto ecco vediamo questi dentini è un leone bombò è un leone scappo scappo aspetta è un cucciolo ma poi cresce dai Timon possiamo tenerlo ti prego si allora lo porterò fuori ogni giorno e se fa qualche guaio pulisco io il guaio lo fa passare a te ti mangerai e userà a me come stuzzicadetto si ma un giorno quando sarà grande e grosso sarà dalla nostra parte che idea e se stesse dalla nostra parte apri le orecchie ciao io sono Ken Barbie ci siamo già incontrati? no no me lo ricorderei graziosi i tuoi scaldamuscoli bello anche sto fulà ehi Daki hai visto il nuovo trailer? quale? non l'hai visto cosa di che parli? Daki che c'è? stanno facendo un nuovo capitolo di Toy Story nooo credevo ci avessero dato un taglio zio ne hanno fatti tre hanno fatto tre film questo è il quarto oh cavolo io amo Toy Story oh si Toy Story spacca può Homer Simpson essere un comunista suo padre ha parlato a suo nome il mio Homer non è un comunista sarà pure un bugiardo un maiale un idiota un comunista ma vi assicuro che non è una porno star ora la sottoponiamo a qualche test questa è una semplice macchina della verità io le porrò delle domande a cui dovrà rispondere sì o no e lei dovrà solo dire la verità mi ha capito? ehi ehi